I finanzieri del Comando Provinciale di Savona, codiuvati dal personale del locale gruppo della Guardia di Finanza di Crotone, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un giovane 26enne crotonese ritenuto responsabile di reati di truffa aggravata e molestie telefoniche. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Savona su richiesta della locale procura della Repubblica sulla base degli elementi raccolti dalla compagnia di Albenga riguardanti una truffa online per un ammontare di circa 80.000 euro perpetrata ai danni di una persona residente nel territorio in gauno nel corso del 2023. Secondo la tesi investigativa pienamente condivisa dalla locale autorità giudiziaria, l'artefice della frode, già gravato da plurimi precedenti specifici, per rendere difficoltosa alla persona affesa la propria identificazione ha utilizzato utenze telefoniche riconducibili a terze persone, facendosi successivamente accreditare le somme provento di reato su rapporti finanziari e carte di credito intestate ad altre 16 persone compiacente, anche esse residenti in Calabria, i quali ora dovranno rispondere per riciclaggio. I capillari accertamenti delle fiamme gialle hanno permesso di svelare l'identità del responsabile della frode, nonché di constatarne l'abitualità e la sistematicità nella commissione di reati contro il patrimonio e la tranquillità pubblica. Tali elementi hanno determinato il GIP all'emissione del provvedimento cautelare in parola, reso in vero necessario dal pericolo di reiterazione dei reati di truffe e molestie, facilmente perpetrabili sia via telefono sia tramite la rete internet al termine delle attività delegate, poi i finanzieri hanno tradotto la persona presso la casa circondariale di Crotone, dove lo stesso resta allo Stato a disposizione dell'autorità giudiziaria savonese per ulteriori determinazioni di competenza.